Bentornati per l'aggiornamento delle notizie di oggi 6 marzo 2021. Un uomo di Cattolica Eraclea è stato denunciato per interruzione di servizio di pubblica necessità. L'uomo avrebbe preso a calci e pugni la porta d'ingresso di una delle stanze del pronto soccorso dell'ospedale di Sciacca, pretendendo maggiori cure per un proprio congiunto. I fatti si sono consumati lo scorso 5 marzo. Gli agenti sono intervenuti presso il Giovanni Paolo II, allertati da una segnalazione. Stando a racconto dei sanitari, l'uomo, poi individuato e denunciato, avrebbe dato in escandescenze, iniziando a dare pugni calci contro la porta e lanciando minacce e insulti nei confronti dei medici che, preoccupati che dalle parole si potesse passare ai fatti, hanno chiuso la porta chiave in attesa dell'intervento delle forze dell'ordine. Imprevedibile balzo di contagi dal Covid a Sciacca. Secondo il report ufficiale diffuso ieri sera dal servizio epidemiologico dell'Asp, i casi erano aumentati di 16 unità in 24 ore, ma questa mattina il sindaco Francesca Valenti ha comunicato altri 12 casi per un totale di 56. Sciacca dunque diventa il comune agrigentino con più casi, superando Agrigento e Porto Empedocle, dove ci sono anche i migranti. La situazione in città torna dunque ad essere preoccupante, così come a Caltabellotta, dove i contagi sono saliti a nove. Gli ultimi casi di Sciacca riguarderebbero una comunità religiosa e nelle prossime ore, con altri tamponi in corso, potrebbero aumentare. Esattamente sei anni fa la chiusura delle terme. Oggi, sull'assenza di questa importante risorsa economica e sui ritardi della regione, si soffermano le organizzazioni saccensi di tutela e rappresentanza delle imprese turistiche di Sciacca. Sciacca Turismo, Ecomuseo dei Cinque Sensi e Agrigento Extra, con i loro rappresentanti, in occasione di questa ennesima celebrazione negativa, chiedono un confronto con l'amministrazione per conoscere le procedure che la regione sta portando avanti per il rilancio delle terme. Ezio Bono, Riccardo Palazzotto e Viviana Rizzuto evidenziano come i ritardi stiano provocando un grave deterioramento del prezioso patrimonio. L'assessorato regionale al territorio e ambiente ha dato il via libera al progetto di ampliamento e potenziamento dell'impianto di compostaggio di Contrada Santa Maria Sciacca, gestito dalla Sogeir, gestione impianti e smaltimenti SPA. È andata in deroga la soggettabilità alla valutazione di impatto ambientale. Con l'ampliamento, il quantitativo dei conferimenti annui sarà ampliato a 24.000 tonnellate, pari a 75 tonnellate giornaliere. Si tratta, come è noto, dell'impianto dove viene conferita la frazione umida, che spesso raggiunge livelli di saturazione tali da non consentire il conferimento. La battaglia per l'acqua pubblica torna tema preminente a Menfi, dove insieme al locale comitato civico anche gli ex sindaci Michele Bott, Antonino Buscemi ed Enzo Lotà hanno deciso di scendere in campo in modo diretto. Dopo la vicenda del project financing avviato e poi ritirato, preoccupati che il percorso avviato per il riconoscimento della gestione diretta del servizio idrico integrato comunale stia subendo un rallentamento, si preparano a partecipare con determinazione all'incontro organizzato dal sindaco Marilena Mauceri per martedì 9 marzo presso il centro civico. Pronti al via i campionati di Serie C di pallavolo che lo scorso ottobre non sono mai iniziati a causa dell'emergenza. La prima giornata era stata fissata per oggi 6 e domani 7 marzo, poi per agevolare le azioni logistiche era stato deciso un rinvio. A partire dal lunedì 8 marzo, tutte le gare della prima giornata potranno giocarsi regolarmente. Si comincia con una formula nuova di 4 gironi e il blocco delle retrocessioni in Serie D. Decisa in campo maschile la composizione di 4 mini gironi con una prima e una seconda fase. Nel girone A volle i club Sciacca insieme a Mazzara, Terrasini e Partinico. Prima gara dei Saccensi il 14 marzo contro il club Leoni Palermo. Per il momento è tutto, ci fermiamo qui. Gioprestia, Corriere di Sciacca.it Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro numero Whatsapp.